Proseguono le operazioni alto impatto nel territorio di Torre Annunziata. Ieri mattina gli agenti del commissariato Pluntino e della squadra mobile e i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza con il supporto del reparto prevenzione crimine campagna e delle unità cinofile antidroga dell'ufficio prevenzione generale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Bosco Trecase e nella zona murattiana di Torre Annunziata. Nel corso dell'attività sono state identificate 95 persone di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 52 veicoli e contestate 13 violazioni del codice della strada. Controllato anche un terreno abbandonato di via Sepolchia a Bosco Trecase dove sono state rinvenute 37 piante di cana pendiana alte circa 2 metri del peso di circa 37 kg, 6 bustine contenenti cocaina del peso di circa 130 grammi e 114 cartucce di diverso calibro. I finanzieri hanno denunciato quattro persone per abusivismo edilizio poiché avevano alterato il manto stradale per consentire abusivamente l'accesso ai locali che per destinazione d'uso non erano adibiti a garage. Inoltre sono state contestate 13 violazioni del codice della strada per installazione abusiva di 17 dissuasori in cemento tra la pubblica via e le abitazioni private. Infine hanno sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovata in possesso di un grammo di marijuana. Soldato �� bros ora 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 ora